Ciao a tutti io sono Eya e insieme a Martina, Matteo, Ugo, vi do il benvenuto al tutorial come evitare casa di Kim in tre passi. Tutto nasce da una domanda, come possiamo renderci utili anche noi? Ebbene, l'associazione Kim dal 1997 si occupa proprio di questo, di rendersi utili ed aiutare tutti quei bambini da tutto il mondo che non hanno la possibilità di ricevere cure mediche nel proprio paese. Da quasi 25 anni l'associazione riesce a regalare a quelle mamme e ai loro figli la possibilità di sorridere di nuovo. Seguici, così ti mostriamo come donarlo anche tu quel sorriso in tre semplici passi. Come volontario dell'associazione Kim avrai la possibilità di mettere a disposizione dei bambini malati e delle loro mamme il tuo tempo, le tue capacità e la tua energia per rendere la loro vita migliore in piccoli gesti. Se deciderai di essere volontario della casa di Kim, con l'aiuto di un coordinatore di provata esperienza potrai essere volontario scacciapensieri, sostenendo mamme e bambini durante il periodo di ricovero in ospedale, volontario Archimede, accompagnando mamme e bambini nella loro istruzione, volontario acchiappafantasmi per il presidio notturno e tanto altro ancora. Ti aspettiamo! E se un'attività di team building, oltre a favorire la comprensione e l'affiatamento di una squadra avesse un supporto pratico a casa di Kim, noi di Vincex lo facciamo e ci teniamo a coinvolgere i nostri colleghi in una serie di attività a carattere pratico presso la struttura dell'associazione. Montare mobili, verniciare muri, pulire il giardino, sono solo alcune delle azioni con cui possiamo aiutare. oltre ovviamente a insegnare ai bambini e a organizzare con loro e per loro gire e feste, impariamo a collaborare e a capire di più mentre aiutiamo casa di Kim. Noi ci mettiamo la faccia e tu vieni a darci una mano? Dona ora è il mio contributo a Kim e se è anche il tuo, clicca su www.associazionekim.it Dona ora e scegli la modalità di donazione che preferisci fra bonifico bancario, bonifico postale, bollettino di conto corrente postale, Paypal. Ciao amici, grazie al vostro tutorial, mia figlia sa qua. Ciao amici, grazie.